Si continua a lavorare sugli eventi tutto l'anno, avete già presentato questo primo calendario 2023? Ma sì, l'abbiamo voluto far uscire nel periodo natalizio perché sappiamo che sono diverse le persone che arrivano nella nostra città, quindi è già disponibile negli hotel, ma anche nei punti di informazione turistica della città, ma anche nei totem presenti nella città che raccontano la programmazione estiva. Ecco, è già apparso l'anteprima eventi 2023 con il programma estivo della città, ecco perché crediamo che una persona debba scegliere adesso cosa poter fare nella stagione estiva, quindi fare una promozione già dei grandi eventi e quindi ad esempio sapere che il prossimo anno il brodetto non sarà più a settembre, ma ai primi di giugno, quindi nel weekend del 2 giugno, un weekend molto bello direi, quindi che ci dà una possibilità anche un po' di destagionalizzare, di far partire prima la stagione, ecco è importante, sono confermati tutti i grandi eventi, ecco questo anteprima che è cartaceo, quindi si può trovare, tutti lo possono trovare nei punti IAT, riporta tutte le principali attività della nostra città ed ecco fa una promozione importante per il 2023. Ovviamente a marzo, periodo prima di Pasqua, usciremo con la programmazione ufficiale dove ci saranno anche tutti gli eventi di accoglienza come abbiamo sempre fatto.